Siamo allo stand di Sellerio, siamo in compagnia di Roberto Alaimo. Buonasera Roberto, benvenuto a Più Libri, Più Liberi. Grazie, grazie a voi. Parliamo giusto una pillola, una domanda, una curiosità che chiediamo direttamente all'autore dell'estate del 78 di soddisfare l'esigenza di questo libro, questo ricordo struggente, questo fare anche un po' pace con il passato, l'importanza della memoria. È la prima volta che un'intervistatrice sa qualche cosa del libro di cui si parla, quindi mi complimento molto. Sì, è un libro che è impastato di carne e sangue di chi l'ha scritto, perché è una storia personale mia che mi sono tenuto sullo stomaco per 40 anni, fin quando non è venuta fuori come un rospo che dovevo sputare. Una storia che non so neanche io se definire un romanzo, più un memoir o un saggio, infatti nelle classifiche si spostava settimane alterne dalla narrativa alla saggistica, perché effettivamente è un romanzo contemporaneo, un romanzo che non si esaurisce semplicemente nella narrazione, ma in cui entra anche il ragionamento, entra anche la personalità di chi scrive, che dice io, io per la prima volta scrivo un romanzo in prima persona, proprio perché mettere dei filtri all'autobiografia si può fare, certamente, molti lo fanno e sono legittimati a farlo. Ma questa è una storia talmente particolare che mi sembrava giusto essere completamente senza pelle. E si avverte molto perché c'è anche questa importanza del riportare il ricordo quasi in una giusta posizione, anche in una prospettiva, anche futura, quasi una pace, una ricerca di una pace. Ma scrivere, secondo me, che si sappia o no, che sia consapevole o no, chi scrive è un modo disperato di mettere ordine nel mondo, innanzitutto nella nostra vita, però in generale nel mondo. È disperato il tentativo perché il mondo non si fa affatto mettere in ordine da noi, però è un tentativo che va fatto perché serve, se non altro, come forma di autoterapia. ringraziamo Roberto Alaimo per questo romanzo memoir saggio, qualunque generis sia o come lo si voglia definire. L'estate del 78 pubblicato da Sellerio, grazie mille per aver condiviso con noi le sue memorie. Grazie a voi, grazie.